Ehmad 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 Arrivano i soccorritori Ma per lui le manovre di rianimazione Durate più di un'ora Non sono servite a nulla Ehmad è morto Ferrugio non scappa Non ci prova nemmeno Ed è lì sotto Sotto il tendone bianco del ristorante che attende Aspetta gli agenti del commissariato di Desenzano Perché sa che deve essere arrestato E per quel 19enne Di quel sogno di tornare in Marocco Per sposarsi Violentemente svanito In un pomeriggio d'estate